Dopo oltre dieci anni di ricerca, nel 2012 è nato Leopard, l'estrattore centrifugo dotato di tecnologia brevettata DMF, interamente progettato e realizzato all'interno del gruppo Pieralisi. L'Eopard viene prodotto con materiali di alta qualità, rispettando elevati standard di produzione. L'Eopard rappresenta la terza era nell'estrazione dell'olio d'oliva. È l'unico estrattore centrifugo a due fasi che possiede i pregi della lavorazione senza aggiunta di acqua e che produce una sansa disidratata simile a quella proveniente dal sistema a tre fasi. Il Leopard ha la versatilità di un estrattore centrifugo che si adatta sia alla lavorazione in continuo che alla lavorazione partitaria. È l'unico in grado di coniugare la moderna tecnologia di estrazione senza aggiunta di acqua con la lavorazione partitaria, grazie al dispositivo di svuotamento del tamburo gestito automaticamente dal pannello di controllo con pulsanti touchscreen. Permette di recuperare direttamente dall'interno del tamburo una parte della sansa denominata patè, costituita dalla polpa e dall'umidità dell'oliva senza tracce di nocciolino. Il patè si adatta a differenti impieghi, come ammendante del suolo, integratore per la zootecnia, per la produzione di biogas e come possibile ingrediente per l'alimentazione umana, rappresentando quindi non più uno scarto da smaltire, bensì un valore aggiunto e una fonte di reddito per il frantoiano. Con Leopard c'è più qualità nell'olio estratto senza aggiunta di acqua. Il contenuto in polifenoli totali è superiore di circa il 30% rispetto a quello ottenuto con il sistema a tre fasi. Con Leopard la resa è in assoluto la più alta ottenibile oggi sul mercato e i consumi sia idrici che energetici sono ridotti. Con Leopard nessun rifiuto scomodo, con il patè gli scarti di produzione diventano una risorsa. Leopard Piralisi. Tecnologia all'avanguardia per la massima resa e qualità.